I 12 mesi sono passati dall'approvazione del decreto che io ho proposto al governo e ho fatto approvare dal Parlamento, il decreto contro il femminicidio. Prevede una maggiore tutela nei confronti di chi denuncia, protegge chi denuncia e al tempo stesso introduce strumenti nuovi come l'ammonimento e la possibilità di cacciare da casa il coniuge violento. Sono cose che hanno funzionato bene, che hanno fatto migliorare tutti gli indici e che penso possono rappresentare la strada giusta. Non siamo definitivamente soddisfatti, noi crediamo che lo sforzo per non fare voltare dall'altra parte, per agevolare maggiori denunce, sia uno sforzo che non è ancora concluso e non sia ancora compiuto definitivamente. Ecco, e questo sarà il nostro impegno. Noi invitiamo tutti a denunciare la violenza nei confronti delle donne e impegniamo tutti i nostri migliori apparati di polizia nel contrastare la violenza di genere.